Musica Hey Udders! Buon appetito, sono i due e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video in play questa volta di Vampire The Masquerade Redemption sempre qui per nuove ed entusiasmantissime avventure questa volta nella Ringstrasse Meridionale per cercare di andare alla House The Exe quella che si trova qui e... wait a second che mi ero scoloso di segnermi una cosa è questa qui la House The Exe Later Man e andiamo all'ingresso della House The Exe Yeeey Ah no, pensavo entrasse va bene House The Exe da qui entra e quindi let's go per scoprire dove diavolo è Agnieszka tutta sta strada per un po' di figa Dove sono gli schiavi? Dove è Agnieszka? Fermi come siete entrati? degli intrusi nel nostro santuario prendeteli Ah ehi dai su perché fate così? io voglio solo sapere dove era la tezia voi però non mi dite dove è la tezia io quindi poi devo prendere precauzioni un po' trastiche e poi inizia a bloccarsi grande allora questa è la serratura per andare all'Arcanulum e ovviamente non ho le robe mi servono tre parti rosso, verde e blu che ovviamente sono qui dentro rosso, verde e blu quindi andiamo a prendere queste gannatissime parti behold my power bitch ecco cosa devi di cosa ti devi preoccupare dai dai su forza dai gannatissime si grande ora qui non c'è nessuno e quindi direi di andare behold ma ti succhio la fa ma ti succhio dai qui bastardo ehi magli direi di che le do a lui che gli servono un po' di più vai lo sei dovrei tecnicamente comprare una corazza anche a Willem ok poi gliela comperemo poi gliela comperemo ecco beh allora quindi siamo qui siamo dei piccoli papiri bada sarduti che non vengono perché sei stronzo maledetto starnuto del cazzo sapete quando devi starnutire e invece poi ti si blocca perché è proprio stronzo lo starnuto ecco questo grande andiamo qui ora ciò possiamo dei bellissimi crociati pampiri che mica che ti lasciamo uscire è che mica che qua poi prende uscire e andrà in giro come se fosse che mi sta passare andrà via la voce mannaggia a me mannaggia dice non è che poi prende andrà fate i viaggi perché qua non offrimo manca il caffè ma che che stai ma che stai cercando le fa adizioci cazzo gargoyle dai oltre papiacchis ce ne faremo una ragione eric ne faremo un'enorme ragione e abbiamo una collana di diamante che ovviamente aumenta molto di più l'aspetto rispetto a che la nostra piccola colana come l'anello di diamante siamo bene così ora qui ci sono mamma mia i cargoyle e lì c'è la cosa che credo ci serva quindi la andremo a prendere a previs cazzo so so quanto so tosti i cargoyle ok palloni palloni massacra purtroppo i cargoyle hanno so brutto pizio test tosti in culo fortuna che c'ho la spada nuova e possa recuperare il sangue a muzzo anche da loro e questo mi risparmia un bel po' dei rudimenti desideri quindi andiamo avvicinate venite il caro Christophe che ha pensato ne sopra o così è volante ehi avete dei biscotti no 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 indietro 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 eccoli qui siamo morti e io non ho manco salvato ok uno è andato vai con l'altro vai con l'altro no dai ti hai chiesto sei ok perdonatemi ci ho avuto un momento di di impoverimento della mia anima quando ho ho pensato ho detto mi sono fattuto da solo senza neanche salvare sono un genio del crimine e questo scherzo sta ballando la Brack e non c'è un cazzo di niente tranne una pergamata del figlio che ci serve dopo aver salvato perché noi siamo boa e quindi ci ricordiamo di salvare dopo aver fatto tutte queste cose perché perché ok ok possiamo perdere queste cosette allora vai 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 ti ti abis video un'altra cosa positiva è che i gargoyle come i templari teutonici non vanno a cagare da qualche altra parte dopo che li avete massacrati cioè non scappano il senso è quello rimangono belli gli infermi dove devono stare e si continuano a far massacrare che cosi che devo andare la storia dai forza dai 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 bel gargoyle dai bel gargoyle fino qui cazzo di gargoyle enormi ok quindi a proposito io mi sono scordato di una cosa perché se no non so da quanto tempo sto registrato facciamo 5 minuti ok no perché tecnicamente quando registro vampire ho lo schermo intero quindi non ho audacity aperto e non posso controllare da quanto sto registrando non oso neanche passare ad audacity perché dato che il gioco mi va in in icona non vorrei che mi smette di registrare il programma e in quel caso sono un po' inculato quindi per prevenire queste cosettine un po' rognosette ho deciso di mettermi un cronometrino in modo tale da poter vedere a che a che tempo si insomma a che minuto so allora detto questo abbiamo massacrato un po' tutta questa gente ora prendi qui prendi qui tu prendi qui e mi fai un bel tocco degli spiriti su queste vite di l'icantropo vite infetta e vite di l'icantropo vabbè la metto alla fine serie 50 ma tanto muccecala tanto non è che adesso dobbiamo combattere subito subito da qui ah no comunque mi sono sbagliato pensavo fosse qui la serendo cazzo mannaggia perché gli npg fanno così perché fanno così perché perché ragazzi perché fanno così eh bella domanda fortunatamente questa spada come sto continuando a ripetere da tipo tre puntate mi dispiace non devo preoccuparmi del sangue sto sempre carico perdonatemi ma c'ho qualcosa scusate un attimo ok mi sono preso un po' di spray al propoli perché sciossa la cula che tipo stava facendo mio addio uccidimi adesso no no scherzo non dovevi imbazzarmi christophe stavo a scherzare stavo a scherzare stavo a scherzare cazzo di gargolla di merda mori ecco come dicevo il problema è che i gargogli rompono un po' il culo oh eccoci qui e questo mi sembra fosse un mini boss quindi salverei ok si e c'è un fottutissimo gargoglio pensi che non l'ho visto dove sono gli schiavi dove è Agnezka dimmelo e non ti faremo alcun male gluridi impiccioni non potete comprendere quali forze avete interrotto e di ciò rendiamo grazie vi distruggerò catturerò la vostra stirpe per torturarla e i vostri alleati per farne degli schiavi una cosa alla volta virstagna prima dovrai vedertela con noi eh beh direi ovviamente lei c'ha tipo le ultra magie del cazzo no no tutti su Chris no però se siamo giocati lei se siamo giocati la ciccia dai no no ok pristagna è andata mo se fottiamo pure il gergoil grande così piatti sta la barda eccellente la barda eccellente me ne sono corto adesso cazzo 55 ok ha un po' più di velocità ma a questo punto no non conviene grazie grazie maria ma per questa volta è no bene così quindi prendiamoci questo tantissimo pezzo dell'arcanulum e andiamo qui e abbiamo il primo pezzo ora salva uno vai e andiamo alla biblioteca dei tremeri dopodiché c'è la l'altra biblioteca dei tremeri ok ti dico di sì per non dirti di no ora no 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 fermo 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 se no rimaniamo inculati a sangue prima di qua ora cazzarola guarda che devo fa no mi avete aggrati tutti non è vero mi avete aggrati tutti ma io che ho fatto de male paverci sti personaggi così demenziali ah ok li abbiamo uccisi tutti bene così bacco me ne ero corto no pensavo se non fosse ancora un altro qui e invece no ma ovviamente i miei personaggi tendono sempre ad aggasse troppo perché sono stronzi fino all'osso e quindi tendono sempre a creare il mondo mai fidarsi dei propri png perché sono stronzi ecco il motivo ora questi sparano palle di fuoco quindi no non c'è prova non c'è non c'è vabbè bella per me c'è un gruppo di bastardi coglioni e non è colpa mia vai poi sereno ovviamente rimane ferma così a grattarsi il coglione vai ok mamma mia ma come faccio ad avere dei png così dementi come mi chiedo come è possibile bene allora adesso che vi ho restituito un po' di pozze di sangue perché se no immagino che non lo so non ci avreste niente da mangiarvi eh perché spregate tutto il vostro cazzo di sangue a uffa perché siete belli perché siete stupidi come delle galline porco giuda andiamo liggio piccolo cagnolino liggio v'hanno detto allora piano 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 adesso non aggrave niente solo ora bravi così vedete con un minimo di strategia si può fare si può fare cazzo ora buoni le suons dai dai e vabbè e niente e ma gradi vabbè però meglio due dai no 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 non non te fa scappare niente non te fa scappare niente toglietevi dai coglioni possibilmente prima che vadano in parti dove possono no e vabbè niente siamo tornati qui quindi non c'è nessuno fortunatamente scusa ecco bravo ciccio vieni qui e ti batta la succhia oh ce l'abbiamo fatta ce l'aveva un po' ce l'aveva tanto ok quindi anche questa è andata e adesso da no scusate scendi qui mi sembra che c'era qualcosina vero a parte money che vanno sempre bene c'è la pergamena di manto delle ombre oh e da qui si va qui quindi niente e allora dove diavolo dovrei andare eh c'è questa biblioteca dei tre mercosi carriera e anche perché si qui ritorno indietro alla house dei hex e quindi niente e quindi mi sono perso una stradina qui dietro molto semplice allora da qui andiamo qui credo di aver capito anche qual era non vorrei sparare cappellate ma dovrebbe essere questa esatto e mi chiedo dove siano serena e company serena e qui ovviamente eric è rimasto a fasce le sighe why not non sopporto i maghi bla 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 ma cosa fai cosa vuoi e e andai ok giustavo è stato a far serete stai a fare un perculo da un omunculo te vorrei solo di questo quindi che case cioè il mio gruppo avrebbero manco fatto una pizza margherita ma che piannazione dai prendi almeno qui piatta di sangue e bottiglia di vite mentre quest'altra la facciamo prendere a serena dato che è scoroggiota raggi attesere ok e vedi che sangue di gigante oh peppa e adesso ora che abbiamo finalmente tutto quanto vediamo di proseguire dai ne voglio raccogliere almeno due su tre e vai ok vai grande ahah adesso mi sa che manca l'ultimo esatto si e mi sa che sei morto ciccetto ok ho ucciso anche questo mmm qui ci sono dei forzieri mmm strano nessuno che controlla dei forzieri almeno che non ho sbagliato strada e questa è la secondaria ma non credo lingotto dei lingottini d'oro mamma mia adoro quando succede questo quando trovo questa bella robetta interessantissima tipo dei cazzo di lingotti d'oro sono sempre belli dai 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 preoccupate di questi preoccupate di questi no ok dai dai grande sì stanno continuando continuando a parlare perché c'è qualcuno no non mi sembra proprio ci sia qualcuno quindi prendi questo prendi questo prendi questo si vende tutto si vende il mondo mi ha fatto un cazzo niente praticamente perché sto ancora con un po' di gola secca che cazzo ah qui c'è un signore dei tremero quindi credo di essere praticamente arrivato magari torna fatemi tornare indietro prima che mi lancia uno di quei cazzo di fulmi di merda appunto dai grande ok il signore dei tremero è andato e qui c'è la magia taumaturgica rituali del sangue buono come il pane vai tanto ormai agrali li abbiamo agrali quindi aggriamoli completamente vai così ah scusa non ci avevo pensato che sto stavo a bere vabbè vai così prenditi vaccino questo dentro lo screen abbiamo altri magli che diamo a lei perché si perché ci piace la donna con i magli nelle mani perché è sempre meglio no in realtà non è sempre meglio la donna con i magli nelle mani perché se provi poi a dargli una parpatina nel sedere poi lei ti dà una bella botta nel nel corazon e ti sfonda il corazon perché i magli sono belli potenti resistenti fatti fatti di ferro e il ferro sui gengive fa male parecchio male quindi direi che siamo arrivati ah è andato ah no dai dai no 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 dai 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 che ce l'abbiamo no 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 tu non vai da nessuna parte signore dei miei fottutissimi cazzi dai così dove vai dove vai dove vai piccolo bastardo munco ok e vai così perfetto quindi abbiamo trovato il secondo pezzo del come diavolo si chiama l'arcanulum lo inseriamo e ci prepariamo ad andare alla biblioteca dei tremer perché sono due biblioteche dei tremer dopo la tana dei gargogli dei tremer perché una volta trovato il secondo pezzo possiamo salire qui vi spiego perché non sono salito ma sono andato direttamente perché c'è questo sigillo dell'arcanulum che ovviamente queste incisioni somigliano stranamente a quelle dell'ingresso credo che facciano parte di una chiusura magica lo so per dire io ma in ogni caso va bene anche così quindi ci manca l'ultimo pezzo il pezzo verde di nuovo alla biblioteca e ovviamente lo faremo nel prossimo video in play quindi bro termine questo video in play sapete che ho il vostro rax91 ciao a tutti bro oh yeah ciao a tutti